Fino a metà è la palestra Perché comunque mi scarica a livello fisico, a livello mentale e poi mi dà una grande forza Io sono un avvocato da circa due anni, separazioni, divorzi È un lavoro un po' duro anche per una donna, però è appassionante Il tempo che io dedico al lavoro è tanto, quindi quel poco tempo che mi rimane lo voglio dedicare alle persone per le quali davvero vale Persone che mi danno forza, sulle quali so che veramente posso contare, persone che ci sono Ho avuto un'esperienza di mia mamma che non è stata bene circa dieci anni fa Io quel periodo mi ricordo un mese di confusione Nell'arco di due giorni è dovuta essere operata d'urgenza Poi una mamma, è sempre una mamma, ecco Confusione ma nello stesso tempo fiducia e speranza perché alla fine quella non deve mancare mai Mia mamma ce l'ha avuto ma l'ha superato, sono dieci anni, quindi si supera Quindi mi sono come sentita in dovere e volevo rendermi utile Vuoi ricordare a tutti che il cancro è curabile e che comunque noi raccogliamo fondi per la ricerca e se non ci fosse la ricerca Forse mia mamma neanche sarebbe qui Quindi Se doni un soldo all'air sai che non si perde per strada Se tu vuoi dare agli altri devi donare del tempo, cioè a tutti gli effetti Puoi dedicare anche un'ora, ne vale la pena ed è contagiosa Grazie a tutti